ecco ragazzi è il mio primo video di adottomiglia adottomiglia questa è la mia casa mamma mia casa di lusso e questo è questo è il mio pet robodog che andrò anche il foglio d'occhio e sono la casa di lusso andiamo subito e questo è l'asciata è l'asciata è bellissimo che è l'asciata e questo è la cosa più bella del mondo è l'asciata la banca e questo è l'asciata e questo è l'asciata qui è l'asciata e la banca e questa è l'asciata e si pensi a che di questo video che puoi così bene e che bella cosa amare e non mi hanno sovrappato e che c'è anche la pizza la pizza è buona pizza la pizza è buonita la pizza è buona qui non ti sanno e viviamo e si rispondiamo e si guarda e si guarda e se guarda e se guarda e si guarda e se guarda e si guarda e se guarda Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti.